Questa sera in Europa League debutta anche la Lazio che gioca contro il Tottenham. La Lazio forse è quella che tra le tre squadre che scendono in campo questa sera, tre squadre italiane, parliamo del Napoli e dell'Inter, è quella che ha sicuramente il compito più difficile perché innanzitutto gioca in casa e poi gioca contro il Tottenham. Speriamo di vedere una bella partita questa sera, il Petrovic fa notare che gli avversari non hanno qualità soltanto sulle fasce ma anche centralmente e hanno fisicità sia al centro campo che dietro e anche sulle palle ferme. Il Tottenham lo conosciamo tutti, è una squadra molto forte e speriamo questa sera di vedere comunque una buona Lazio che viene da un campionato dove è a punteggio pieno, quindi ha tutte le carte in regola per poter fare una buona partita. Quindi questa sera alle 21.05 vedremo questa bella partita che verrà trasmessa sia da Mediaset Premium che da Sky in diretta e anche in streaming sulle relative piattaforme. In bocca al lupo alla Lazio!